Come riporta anche l'app di OneFootball, Marco Giampaolo ha rivelato chi sarà il rigorista della stagione 2019-2020, come statuto ha detto. Da statuto tira un attaccante e il nostro attaccante è Chris Piontek, quindi sarà lui, pum pum pum, il cacciatore di taglie, a battere, speriamo tanti, calci di rigore. Proprio si è soffermato sull'attaccante, chi fa un po' fatica ha detto a recuperare dalle fatiche dell'allenamento, questo è il problema oggi di Piontek, in questo momento questa è la sua difficoltà, il suo ostacolo in queste prime settimane che non hanno visto certamente brillare. Ma si sa, attenzione, precampionato è una cosa, la partita di campionato, la partita ufficiale è un'altra. E quindi non ci sorprenderemmo di vedere un Piontek più brillante e più vicino alla porta, non vorrei dire e lo pensate cosa vorrei vedere domani di Chris Piontek. Quindi un Piontek che ci auguriamo ben supportato da Suso, ben supportato da Paquetà, da Cialanoglu in questo suo ruolo, che è un mio pallino. Ho sempre pensato che il ruolo ideale, dopo averlo visto in questi ultimi mesi, di Cialanoglu potesse essere anche quello di giocatore davanti alla difesa. Magari mi sbaglio, magari non ci penso, non ho paura di dire, forse ho pensato ed è stata una sciocchezza, è la mia, diciamo così, la mia idea fissa, ma io sono convinto che Cialanoglu possa far bene, possa far tanto lì. Quindi con l'aiuto di Cialanoglu, con l'aiuto di Paquetà, Suso, magari con l'appoggio di Castiglieco potrebbe essere l'occasione per Christopher Piontek. Ma ecco un'altra cosa che vi volevo dire, che vi riporto, ho scoperto su un sito che, appunto un sito, ha detto che il Napoli vorrebbe puntare, ve lo riporto, così ve lo riporto, così siete informati su tutto quello che succede. Questa notizia dice che il Napoli vorrebbe investire 45 milioni di euro per Chris Piontek, perché è giocatore, visto che non è riuscito, non dovrebbe riuscire ad arrivare ai carli, giocatore ideale, perché è finalizzatore in area, il finalizzatore giusto per le azioni, per le trame di un Napoli che avrà Lozano, che avrà Mertens, che ha insigne e che non riesce però a esaltare la forma e la qualità di Milik in difficoltà, un po' come l'altro polacco Piontek in questo precampionato. Chi è polacco e non è in difficoltà è Lewandowski, che se non sbaglio ha segnato a Raffica anche oggi nel Bayern Monaco. Quindi vi riporto anche questa notizia, non commentata neanche ho chiesto, c'è, io ve la dico, voi la prendete e dite, ah, la commentate se volete, non la commentate se volete, ma oggi gira anche questa notizia di un'offertona del Napoli per Piontek. Chiaro che poi una volta che il Milan cede 45 milioni di euro Piontek, poi è lì, qualcuno dice, bene con quei soldi si va a prendere i cardi, e lì si galoppa come un cavallo all'Arc de Triomphe. Di Inebol, la grande campionessa di galoppo, ce n'è una, gli altri devono rallentare la loro corsa, perché se no si rischia di cadere come stava cadendo la mia macchina e l'ho bloccata al volo, stava scivolando. Il Milan non deve scivolare, deve andare avanti col suo pum pum pum, sperando che domani torni a fare davanti alla sua curva quel gesto per il quale tutti ci siamo innamorati, di Chris Piontek, il cacciatore di taglie, il pistolero, Piontek, pum pum pum. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.